E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DiegoFire05 E oggi siamo sul secondo episodio di I'm Scared E vabbè raga, avevo detto che non l'avevo fatto altrimenti, però raga, dopo avevo giocato Cioè, mi intriga molto il gioco, davvero, sono davvero curioso di andare avanti Ragazzi, nel scorso episodio c'erano una scelta di così Che dopo un pin, una specie di jumpscare, sono sbocati questi due file Contenenti queste scritte, questa qui, questa scritta E qua con ciao, ma, cioè, non c'è nulla, anche zoomando non c'è una mazza E ragazzi, per andare avanti basta riaprire il gioco E facciamo Ok, se lo sicuro l'ho già vista Ciao, sai dirmi qual è il mio nome? No, aspetta, facciamo un meno di scemi Raga, proviamo a scrivere White, white, cazzo Whiteface No, cosa è successo? E il nome è quello che Se ci sta parlando l'entità, quella con quella faccia bianca Boh, vediamo Ho creato qualcosa per te Ok Ragazzi, sono confuso Ma che era? Ma no, cioè, ma che cazzo? Ragazzi, aspettate un secondo che non ho capito Ancora Ah, dovevo scrivere il nome giusto Giochiamo a... In... Ma non si capisce, no, ma... Giochiamo ad inse... Ad inseguiti, ma che bello Minchia che fi... Oh No, 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 no No, no, no No, no, ce l'ho dietro, raga Cazzo No, raga, è orrenda È orrenda, raga, è terrificante Sta roba, eh Eh? Raga, non si capisce un cazzo Scusa, eh Eh, ciao Eh, ciao Eh, ciao Ah, cazzo Cazzo, ragazzi Comunque, ma scrivi bene La tua carica non si fa cagare, sappio, eh Marca, puttana Dove? No, io ti ho preso scritto Non lo so, raga Porca puttana Maledetta Vai, dai No, 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 via È orrendo sto gioco Santo Dio Non so se sei lento, stronzo Oh, forse è smesso di inseguirci Dietro di... No, no, non c'ho un cazzo Che palle Come stai Non benone Hai paura? Eh, un po' Come stai? Eh, c'ho già detto Va bene Ma questo è dentro L'adentro, raga Che troia Forse deve andare in quella porta, raga Vediamo Provate, che c'è a scrivere No, non c'è una mazza Scrive bene Faccia di merda Deve andare in quella porta, là Non so se l'avete vista Credo dovranno andare lì Ancora E vabbè E vabbè, ragazzi Scusa Ma come stai coni Queste frecce Ci portano a qualcosa Ma bugiardo che cosa Scusa Eh? Eh, non si capisce Da piccola risata ho sentito Mi sembrava Quindi hai rotto le palle Già Mi sembra di scrivere Ma Basta Ma che se stai Stai vendendo Tipo queste freccette Ma vaffanculo Cazzo Ti ho perso Beh, certo O meno Lentamente Eh, ma Questo gioco è Terrificante C'è Ma è incredibile Ancora sta roba Non so, ragazzi Il problema è sta roba Che non ho C'era Non ho capito Qua c'è scritto Piano Piano Ascoltarlo Lo voglio Purta faccia Di cazzo Ma ha rotto le palle Nezzamente Vaffanculo Cazzo Di lì Di stro No 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 Vaga Ma è l'infermere Non capisco Ci sarà tipo qualcosa Una chiave da qualche parte Per aprire sta porca Vabbè ragazzi Anche con il secondo episodio Possiamo concludere qua Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Che siamo già con iscritti Vi ringrazio Raga Non ho capito nulla Perché non ho capito Di quello che devo fare In questa parte qua Se scoprirò qualcosa Come andare avanti Vi porterò sicuramente Un terzo episodio Che questo gioco È veramente Misterioso Come l'ho descritto Nello scorso episodio Ho fatto la rima Credo Non lo so Raga Vabbè Ripeto Quando scoprirò qualcosa Vi porterò un terzo episodio Quando scoprirò Come andare avanti Perché Già Che appegnano Sti file Così Ragazzi Vedremo Ragazzi Ci saranno Scusate Sicuramente Ci saranno Altri episodi Vedetevi Fai 05 Tutto E ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi L'escriz Scusate Scusate Scusate